Arrestata insieme ad altre quattro persone durante un'operazione antidroga a Roma, Salvatore Casamonica, elemento di spicco dell'omonimo clan. Da quanto emerso dalle indagini, i cinque arrestati avrebbero fatto parte di un'organizzazione criminale che gestiva traffico internazionale di cocaina. L'inchiesta, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, dagli uomini della Guardia di Finanza e coordinati dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Roma, ha accertato che Salvatore Casamonica sarebbe stato il referente del clan per la gestione del traffico di droga. Per gli inquirenti era il punto cardine dell'organizzazione e puntava a far arrivare in Italia sette tonnellate di cocaina. La droga, una tonnellata per ogni carico, doveva partire dal Brasile per arrivare in Italia con aerei privati. Il primo carico da importare, su cui il clan avrebbe investito 4 milioni e mezzo di euro, non si concretizzò a causa dell'arresto di Salvatore Casamonica, che era già finito in manette lo scorso luglio nell'operazione Gramigna. Alle indagini hanno collaborato anche agenti sotto copertura.